Sicuramente di non ripetere gli stessi errori fatti precedentemente, puntare moltissimo sui giovani e investire, investire come fanno altri paesi che non erano alla nostra altezza ma ci stanno superando. Questo è quello che mi sento, oltre alle preoccupazioni che in questo momento viviamo, ma dobbiamo guardare in positivo tutto quello che c'è per ora e sfruttare questi momenti e renderli positivi. Questo è quello che mi sento di dire in questo momento.